Dallo scorso mercoledì la città di Pozzuoli è stata oggetto di un inquietante escalation di delinquenza che ha messo in allarme la cittadinanza, in primis i commercianti che dicono di non sentirsi più al sicuro. In sole 48 ore ben due supermercati della catena Deco sono stati vittime di rapina a mano armata. A questi si aggiunge la rapina ad una farmacia ed un tentativo di rapina ad una salumeria. Tutto ciò è accaduto tra Arco Felice e la centralissima piazza della Repubblica a Pozzuoli. La spirale di criminalità ha avuto inizio mercoledì sera intorno alle 19, quando tre uomini a volto coperto ed armati di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Deco di via Milliscola ad Arco Felice. Sotto la minaccia dell'arma hanno intimato alle cassiere di chiudere le porte, tenendo in ostaggio i clienti del supermercato, che considerato il periodo prenatalizio era più affollato del solito. Ottenuto l'incasso della giornata, che monterebbe a circa 3.000 euro, sono fuggiti salendo nell'auto di uno dei complici, che le aspettava all'entrata. Non sono passate 48 ore che un altro supermercato Deco veniva preso d'assalto. La rapina è avvenuta in via De Frai, a pochi passi dalla centralissima piazza della Repubblica. A distanza di appena 30 minuti, tre rapinatori seminavano il panico in piazza Aldomoro ad Arco Felice. Intorno alle 19, tre malviventi, pistole alla mano, sono entrati nella farmacia Alta Vista, dove si sono fatti consegnare, oltre all'incasso giornaliero di 320 euro contanti, anche il denaro di alcuni clienti in fila. Soltanto pochi minuti dopo veniva presa di mira una salumeria a pochi metri dalla farmacia, sempre in via Milliscola. Questa volta però le urla dei proprietari sono riuscite a sventare la rapina, costringendo i malviventi a darsi alla fuga tra i vicoli di piazza Aldomoro. Questa volta però i carabinieri della locale Aliquota Radiomobile sono riusciti ad intercettare uno di loro, un 25enne di Pozzuoli, residente in via Carlo Alberto dalla Chiesa, già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo, bloccato su via Milliscola e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del bottino, uno scaldacollo e un paio di guanti in lattice. Si cerca ora di ricostruire la dinamica dei fatti, in particolare se in tutti i casi ad operare sono state tre bande diverse o se le quattro rapine, tre delle quali messe a segno, sono tutte riconducibili alla stessa banda criminale.